Il titolo di questo video rappresenta quel che pensa in questo momento a Maurice Perez del Grande Fratello che sicuramente lo dice perché non si sta trovando molto bene. Diciamo che non sta affrontando una bella esperienza all'interno della casa, lo ha confessato lo stesso pallanuotista durante la terza puntata del reality che è andata in onda il 26. In realtà Alfonso Signorini si era già accorto di un certo suo distacco, no? E lo ha chiamato infatti in confessionale e proprio perché era parso molto pensieroso e sulle sue era molto sulle sue nel corso della diretta stessa. Il conduttore allora ha provato a parlare con lui e gli ha detto stasera ti ho visto un po' così, un po' abbacchiato, ma c'era per caso qualche motivo in particolare? Ha domandato così in maniera tranquilla, signorini. A Maurice, senza nascondersi, beh, l'ha ammesso e ha detto no, non sto bene, non sto bene. Lo sapete bene che sono dipendente dei miei. Avete regalato una foto a lui, perché a me no? Sapete che sono molto dipendente da mia moglie e dai miei figli. Allora a Maurice si riferiva in pratica alla sorpresa ricevuta poco prima dal suo coinquilino Antonino Spinalbese perché all'ex di Belen Rodriguez, chiamato in mystery per poter parlare della sua vita privata, sono state fatte vedere e poi avere addirittura delle foto di sua figlia Luna Marie. E il pallanotista voleva, in pratica, non è che voleva di più, voleva però lo stesso trattamento. Ecco, tanto per non essere da meno. Vista la sua reazione, Alfonso Signorini ha cercato in qualche modo di rassicurare a Maurice che ha lasciato intendere di voler addirittura lasciare il programma, se non dovesse ricevere un gesto esattamente come è accaduto per Antonino. Quindi diciamo che la possibilità per non farlo scappare ancora ci sarebbe. Il conduttore ha però chiuso spiegandogli che nelle prossime puntate probabilmente potrà appunto accontentarlo. Quindi possiamo considerarlo quasi un lieto fine. Quando vedremo che lo stesso trattamento gli sarà proposto, allora potremo veramente parlare di lieto fine. Per ora questo è tutto per questa piccola news, questo piccolo aggiornamento. Vi ringrazio per l'ascolto, pollice in su per supportare questo canale e noi ci sentiremo alla prossima. Mi raccomando!